Presidente Barone ci eravamo lasciati con la grande festa della Volalto, ci ritroviamo a un mesetto circa dall'inizio del campionato, che Volalto sarà quest'anno? Sarà una Volalto molto simile a quella dello scorso anno, una squadra che vince un campionato senza mai perdere, è chiaro che fa riconfermato in blocco, sarebbe assurdo il contrario, a partire dall'allenatrice che ha lavorato così bene in questi due anni e ci ha consentito un salto importante addirittura in anticipo rispetto ai programmi. Sarà quindi una Volalto molto simile e questo ci avvantaggerà soprattutto all'inizio perché le ragazze conoscono bene gli schemi e le cose che l'allenatrice vuole da loro, con qualche innesto chiaramente molto ben ponderato, soprattutto abbiamo preso un attaccante molto forte che viene dal centro-ester, si chiama Mariana Iarnone, fra l'altro abbastanza giovane, ha 24 anni e che va a coprire un ruolo che diciamo era già abbastanza coperto, però adesso abbiamo tre attaccanti veramente di grande livello per cui questo potrebbe essere un punto di forza. Consideriamo anche che noi recuperiamo completamente Paola Di Gennaro, la nostra capitana, come se fosse un nuovo acquisto perché l'anno scorso praticamente più di metà campionato lei non ha giocato. Infine abbiamo poi deciso di far salire, o sul termine salire, tre ragazze del settore giovanile perché questo è il nostro scopo primario, è la palleggiatrice Chiara Coria, una centrale Alessandra Bonagura e un altro libero Daniele Rosano che si è andato ad aggiungere ad un roster che quest'anno è particolarmente completo e anzi può dare solo problemi di abbondanza, ci auguriamo che chiaramente resti così abbondante fino alla fine. Tendo conto delle avversarie il campionato della Volalto? Certo non potrà essere un campionato come quello dello scorso anno, in questi casi si dice puntiamo ad una salvezza tranquilla, questo è l'obiettivo in questo anno di assestarci se possibile senza grandi danni, ci sono due o tre squadre di livello decisamente superiore, c'è la San Pietro Brindisi e anche Arzano che sono sulla carta perché poi bisogna vedere sul campo, sono decisamente ostiche ma tutte le squadre sono di gran livello, non c'è più come in Serie C la squadra Matarassi, Matarassi, Cuscinetto eccetera. Quindi è un campionato complesso, l'importante in questi casi è partire bene perché se si accumulano un po' di punti all'inizio poi diventa tutto più facile, ecco il motivo per cui noi ci stiamo preparando con una squadra che ha già assimilato gli schemi e speriamo e pensiamo di far bene già dalla prima di campionato che è alla nostra portata.